non ci fai con le boccine dai, cos'è un pochino venite a capire non vado a rimanare alto non vado a rimanare alto non vado a rimanare porchetta porchetta a disposizione allora vado dove basta e poi ci vediamo dopo Geli, sei un grande buona sera, ma lei come mai è qui? beh, per passare una serata diversa da tutte le altre che sono tutte monotone allora qui la ballata si spera si, si, si e allora dove sta la prima copia del po' eh, buona qua mi piace maestro l'estate arriverà che ci regalerà un mondo libero di ridormare ferragosto amico mio non ti conosco ferragosto l'amore nasce a prima vita ferragosto tiro la brua verso il mare ti voglio scantare ti voglio cruzare firo la brua verso il mare ti voglio scantare ti voglio cruzare vai maestro sono tre fanno tre fratelli è bello che ci fa perci ma lui si può essere tu fa dire che puoi raggiungere tu fa l'altro sull'altro anche la lente ma lui la lente l'ho questa è la serie dell'artista è un po' non ci capito perché il mare non ha funzionato ma lui è cec'è ha lavorato per 15 anni in una fabbrica di carattere e ha fatto per 15 anni 8 ore al giorno questo movimento è buono allora non sai che la risonanza la risonanza ma è spaventato io secondo me che cosa si chiama un po' che pello secondo me il potenziale è arrivato da noi qua adesso con un fucile c'è il bagno pubblico dietro l'albero no vabbè vado giù magari se diventa i sostegni prima perché c'ho comunque una risonanza una risonanza di acqua non c'è la risonanza non c'è la risonanza non c'è non c'è non c'è non c'è mi ha fatto tre ciuffi e poi è andato via lui è il cancello la gente che arriva una volta che ha fatto il discorso si sono andati fuori i discorsi ma io non si è mai capito ma io era quello che ha scritto il libro ultimamente non ne parlo sono su youtube rivela rivela i segreti del bici la lua spain